musica Sììììì! Sììììì! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì stop troppo dietro mi dici stop e troppo insieme vuol dire che c'è qualcosa che non va è verde è verde è verde dai dai, gira sempre, gira sempre, motore aspetta fermi tutti i palli ma no, non si lo trova sai, siamo una naturale è vero, siamo una naturale avanti, 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 stop eh no, questa è giù eh però era questa che stavamo giù, vabbè dai no, no, era da girare è verde, va a cacare avanti, avanti basta, torno indietro stop torno indietro, devi andare un pochettino un po' più avanti vieni oh, tenilo giù il sacco ok, così ok allora, motore in gira motore in giro stiamo partendo non è azione, aspetta no, no, grazie, no, grazie no, grazie, no, grazie no, grazie no, grazie no, grazie ok, ci facciamo una più veloci no, no, fermo, fermo, fermo eh, era bella però no, si vede un tazzo, le bello no, si vede un tazzo, le bello no, grazie no, grazie grazie